ok salve a tutti i ragazzi benvenuti in questo nuovo episodio della rioppacchina al decor oggi con me ci sono metterò i loro link in descrizione anche se è quella di scelgo l'ho messo già e vabbè oggi avevo detto di iniziare a fare qualche macchinaio se iniziamo a fare qualche macchinaio ebbè ecco qui abbiamo stessi numerari con noi c'è sempre funica non è un po' si è un po' no si è abbaggata la rivolta della terza persona mi vedevo di là ho dato da montare la bucca perché è abbaggata allora, una batteria, machine block e fornace allora, machine block, retinitario, ok poi, batteria, batteria allora, iniziamo a fare una fornacea non ho fornacei allora, facciamo la panacea allora, iniziamo a fare una panacea faccio una botelletta facciamo la panacea allora, faccio una panacea io ho fatto un cellulare gelato ho fatto 4 gelati più quelli delle 5 gelati più lento poi serve un machine block lascio un blocco nuovo e lascio un blocco nuovo 5 accusinare accusinare allora faccio un blocco faccio un blocco non vedo niente PNP adesso non metto a casa no 2 o 2 docce muori muori perché la uso dai apriti perché uso la PNP no apriti no apriti vabbè ragazzi non fate tanto chiaro ma io mi chiede che fa casino non fate tanto chiaro non fate tanto chiaro però sì sì certo sì certo ok ok un attimo ok ragazzi eccoci ritornati si sono fatti gli otto pezzi d'oro ora facciamo un machine block allora fornace machine block non fare lo strumento ci manca la batteria facciamo facciamo batteri questo allora cap copper cable tin got e pedra rosso ok iniziamo a prendere due pezzi di due pezzi su poi la tin e quattro pezzi iniziamo 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 con un pò degli strumenti ok intanto vedete che la tin qui allora no qua no allora cosa ci manca se prendiamo un pò di legno e dobbiamo fare il tiragate per me il mezzo è così triste io perché come dovrei parlare ok, vuoi un bicotto? sì, ti sa chi è apri questa cavolo di posta perché adesso è un po' russi ok, vuoi un bicotto? oh, sembra di volare guarda il pianeta delle schienze no? ok 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 ci servono alberi della bella è molto buono alberi della bella ecco c'è la mucca c'è la mucca dai, l'alberi della bella cazzo no, no, ci faccio fuori allora l'alberi della bella è l'alberi della bella c'è la bella che c'è momento di lag stiamo facendo il video a mia pubblica cosa non dava a questa cavolo di forza a me la fuori no, dai no, dai guardami guardami guarda, guardami tutta la motola vabbè, direi di tornavo perché non ce ne sono più non ci sono più alberi della gomma anzi non ce ne sono più alberi della gomma perciò ritorniamo a casa ho un biscotto e non ho fame dai, dai un po' di gioco dai, dai stai spositando un fastidio un momento di vaso ah tu sono la TNT no dai no no allora andiamo a mettere la TNT ok mettiamo a cucinare la regina ma io prendo un po' di latte e tu esci da qua aspetta allora un secchio di acqua e tutti gli altri di latte ok non ci faccio vedere vai 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 esci esci no esci è 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 allora è 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 ok ok ragazzi intanto che si cuocevano ho dormito perciò hanno finito bene allora iniziamo a fare le stracce allora machine block machine block machine block poi un eletronic circuit ci serve il busto e allora ci bastano giusti giusti copertivi che poi nel prossimo episodio andremo a trovare e abbiamo le strutture vabbè ragazzi direi che per questo episodio è tutto nel prossimo episodio finiremo i macchinari un saluto da a costi carmine 10 fulmine e al prossimo episodio e ciao 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 e un saluto da parte di ciao